La trasmissione è offerta da Infostar, tecnologie digitali per le imprese. Infostar, tecnologie digitali per le imprese. Abbiamo approfondimenti sull'economia, sul lavoro, sulla mia, la nostra economia, l'economia delle nostre imprese, delle nostre famiglie. Questa sera parliamo di finanza, ma lo facciamo cercando di proiettare i nostri ragionamenti totalmente nel futuro e lo facciamo analizzando tre argomenti distinti. Il primo è il Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza. Il secondo è quello che sta succedendo intorno a un importante istituto di credito della nostra regione, il Medio Credito del Friuli Venezia Giulia. Il terzo argomento sarà la Banca di Cividale, la prima banca italiana a decidere autonomamente di diventare una società benefit. Bene, abbiamo ospite in questa prima parte l'assessore alle finanze della regione Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli. Grazie, assessore. Grazie a lei per l'invito e buonasera a tutti. Ma grazie soprattutto perché con l'assessore stiamo mantenendo, l'assessore sta mantenendo un impegno che aveva preso con i nostri telespettatori. Quello di monitorare passo per passo l'evoluzione della partita più grande che si sta giocando in questo momento nel nostro paese e ovviamente anche in Friuli Venezia Giulia. La partita è quella del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza che proprio oggi sta vivendo delle ore decisive. Vorrei affrontare questo problema partendo dalla dimensione, come possiamo dire, politico-istituzionale. Perché? Perché ieri il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato all'unanimità una risoluzione proprio sul Piano di Resilienza e Rilancio e il Friuli Venezia Giulia è una delle cinque regioni italiane ad aver fatto un atto del genere. Le altre sono il Veneto, la Toscana, l'Emilia Romagna e la Puglia. Assessore, è un atto di indirizzo di volontà politica e basta o è un atto che ha dei risvolti anche di concretezza? Secondo me è un atto molto concreto al netto del fatto che questa risoluzione contiene delle linee programmatiche alte, delle linee di intervento generali, ma è molto concreto per due ordini di motivi. Il primo perché è stato un comportamento molto lungimirante quello che ha voluto il Presidente del Consiglio regionale assieme a tutti i capigruppo, che è stato quello di fare un po' la raccolta degli stakeholders, come si dice oggi, e quindi di tutti i soggetti interessati a livello istituzionale. Posso interromperla per ricordare che proprio in questo studio lei e il capogruppo del PD, Siaoli, lanciaste l'appello affinché il Consiglio regionale diventasse il momento di sintesi della Regione. Quella è la sede corretta. L'Assemblea legislativa della Regione ha il compito di far valere quelle che sono le iniziative da adottarsi nei vari ambiti e questa risoluzione ha dimostrato l'impegno che è stato un impegno corale, un impegno condiviso, un impegno che è andato al di là delle appartenenze politiche, che ha avuto a cuore soltanto l'interesse per la comunità friulana e giuliana e devo dire che io sono molto orgogliosa del lavoro che è stato fatto e ringrazio ancora il Consiglio regionale per averlo proposto. È stato un lavoro intenso da parte dei consiglieri, ma che getta sicuramente le basi per il Friuli Venezia Giulia dei prossimi 30 anni, perché noi non siamo rimasti seduti in attesa, ma davanti ai governi nazionali che sono cambiati, è un piano appunto nazionale di resilienza e ripartenza che viene mandato a Bruxelles entro domani, di fatto noi ci siamo presi per tempo, abbiamo deciso di rimboccarci le mani, che come ci insegnano i momenti di crisi, abbiamo fatto la raccolta di tutti i fabbisogni e abbiamo anche guardato oltre con questo lavoro del Consiglio regionale, abbiamo indicato quelle che sono le linee di investimento importanti per il Friuli Venezia Giulia. Diciamo che il ruolo del Friuli Venezia Giulia è stato anche un altro, perché il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni, sta interloquendo con il Governo e con il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, non solo per la Regione Friuli Venezia Giulia, ma per tutte insieme le regioni italiane. Proprio su questo punto c'è un dato che è emerso e al quale è stato dato forse poco rilievo, che è il seguente, secondo un'analisi venuta fuori nei giorni scorsi, l'altro ieri, ben il 40% delle risorse del PNR dovrebbero essere gestite direttamente dalle regioni. Io le chiedo la sua analisi politica su due punti. Uno, quello della gestione. Che cosa ne pensa di una fetta così importante dei fondi affidata alle regioni? E due, le regioni sono state coinvolte solo nella futura fase di gestione o anche in quella della decisione decisionale? E quanto ampio è stato questo coinvolgimento? Dunque, le regioni sono protagonisti assieme alle autonomie territoriali minori, ma le regioni principalmente sono protagoniste di questa grande rivoluzione che investirà il nostro paese per effetto delle risorse che arriveranno dall'Europa. Lo saranno per missione e volontà del Presidente del Consiglio Draghi, che l'ha detto in modo molto chiaro, e lo saranno anche perché senza le regioni non sarà possibile mettere in campo tutti questi investimenti. Quindi braccio operativo, ma anche nelle scelte decisionali, saranno partner fondamentali per la riuscita di questa mole di investimenti che nessuno ricorda nella storia della Repubblica. E questo, al netto delle valutazioni che sono sicuramente attendibili, che lei ha riportato prima, il 40%, più o meno, io credo che l'auspicio per l'efficienza del sistema regionale sarà quello di dare alle regioni molto di più in termini operativi per portare all'opera, per portare i cantieri a realizzarsi e quindi per vedere tutti gli investimenti poi realizzati nel termine brevissimo che, come sappiamo, porta a una rendicontazione, quindi ai pagamenti, entro il 2026. Torniamo un attimo al Friuli Venezia Giulia e ricordiamo che la richiesta, la proposta della regione al governo è per finanziamenti che nel loro complesso cubano 9 miliardi e mezzo di euro. Vediamo un attimo la slide e poi le chiederò di scendere nel concreto. Gli investimenti più importanti, la regione ha deciso di farli nel settore della logistica e delle infrastrutture, 3,2 miliardi di euro. Viene poi il Green Deal, la transizione ecologica che ha poi vari capitoli, ma diciamo che per quanto riguarda transizione ecologica, mobilità sostenibile, siamo intorno ai 2 miliardi e 600 milioni. Resilienza del territorio, altro capitolo, 2 miliardi. La salute, 1 miliardo e 200 milioni. Smart City, 317 milioni. Questa è la grande tabella. Ringraziamo il messaggero Veneto che ha compilato, ha stilato questa mattina questo grafico, questa infografica estremamente intuitiva. A lei chiedo i contenuti concreti di queste cifre. Ci fa un po' di esempi esattamente come abbiamo fatto l'altra volta e ci racconta a che punto siamo, qual è il punto nave. Partiamo per esempio dal Dica. Faccio una precisazione sui numeri perché questo dato che oggi è stato pubblicato del fabbisogno della Regione è la mappatura sostanzialmente aggiornata delle progettualità che sono possibili e che possono essere messe in campo immediatamente da Regione Ferruoli-Venezia-Giulia e quindi possono trovare l'infa nel PNRR. Infatti si parlava di 11 miliardi. Sì, in realtà il fabbisogno che abbiamo fotografato noi va oltre i 13 miliardi. se teniamo conto anche delle richieste che avevamo avuto dai comuni a dicembre quando li avevamo consultati in occasione della volontà di portare appunto tutto il fabbisogno della Regione Ferruoli-Venezia-Giulia all'attenzione del Governo Conte. Questo fabbisogno è stato aggiornato per parte regionale ma è evidente che tenendo conto anche delle progettualità ulteriori degli enti locali che non sono inserite nella mappatura della Regione arriviamo a oltre 13 miliardi e sono cifre stellari che sicuramente potranno trovare l'infa in base a quelle che saranno poi le suddivisioni territoriali del rapporto finanziario. Ma pensando a quelle che sono le progettualità come lei mi ha chiesto devo dire che ci sono tantissime esigenze alle quali dobbiamo dare risposta. Penso alla digitalizzazione, al 5G, a raggiungere tutte le aree anche periferiche e montane dando copertura. L'esperienza della didattica a distanza e dello smart working ci ha dimostrato quali sono ancora nel 2021 le fragilità del nostro territorio in termini di banda larga e quali sono le opportunità in caso di situazioni temporanee di difficoltà dovute a malattie dovute ad impossibilità familiari per poter continuare a seguire il proprio percorso di studi o il proprio lavoro per esigenze appunto che siano temporanee dal proprio domicilio. È una sfida che altri paesi nel mondo hanno ormai nel loro quotidiano molti lavorano in smart working continuamente molti studiano da casa continuamente noi non siamo abituati a questo modo di fare ma se c'è una necessità dobbiamo essere pronti ad aver attrezzato tutti gli investimenti del caso. La montagna parla anche di giovani parla delle iniziative che il nostro governo regionale ha già posto in opera con fondi dedicati a chi vuole vivere in montagna e a chi vuole tra i giovani fare agricoltura in montagna e questo è un focus fondamentale che vogliamo mettere in campo attingendo anche dalle risorse del PNR nazionale e si parla quindi di resilienza in questo senso. Dalla montagna al mare, lei ci aveva parlato del porto di Trieste poi ci sono state tante polemiche il porto c'è o non c'è? Allora, le polemiche credo che siano figlie dell'incertezza che si vive in questo momento noi siamo qui per dire che la regione ha un territorio tale un numero di abitanti tali per cui il porto di Trieste che è uno dei porti più grandi e che il porto di accesso al sistema appunto dell'Europa centrale e ci collega con il mondo è integrato con tutto il retroporto della regione il retroporto regionale arriva fino ad Osoppo e oltre quindi non c'è concorrenzialità ma c'è la necessità di dire che noi integriamo e lavoriamo grazie a questa occasione che ha il porto di Trieste Ma c'è nel PNR? Il porto di Trieste è nel fondo complementare Ci spiega allora il fondo complementare? Sì, il fondo complementare è un fondo di ulteriori 31 miliardi di euro che il governo Draghi ha voluto con fondi nazionali quindi basati su scostamenti di bilancio ulteriori per mettere delle risorse a fianco rispetto a quelle che sono le risorse che arrivano dall'Europa e anche questo fondo ha degli investimenti strategici sull'edifici aree naturali, sul rinnovo delle flotte e dei bus sul rafforzamento delle linee regionali gestite da regioni e enti locali sul rinnovo del materiale rotabile, sull'implementazione dei monitoraggi dei controlli di ponti, viadotti e tunnel per evitare situazioni che abbiamo già vissuto sull'elettrificazione delle banchine, efficientamenti energetici costruzione di padiglioni e spazi penitenziari per adulti e minori poi c'è il miglioramento della sicurezza delle strade, ecosistemi per l'innovazione, iniziative di ricerca tecnologica la carta dei servizi di cittadinanza digitale penso anche alle connessioni veloci e le transizioni 4.0 quindi risorse importanti per 31 miliardi complementari al piano nazionale che trova l'infa nei fondi comunitari e noi l'avevamo un po' previsto mi permetta di dirlo con la lungimiranza del presidente Fedriga e il lavoro che abbiamo messo in campo con la finanziaria che abbiamo licenziato a dicembre del 2020 abbiamo fatto un piano di investimenti di 354 milioni di euro per il triennio finalizzato a dire che quando ripartiremo dopo il coronavirus la regione sarà già pronta e questa ne è la dimostrazione Torniamo alle infrastrutture nel PNR cosa è previsto per la velocizzazione della Trieste-Venezia o per l'alta velocità Venezia-Trieste? è tutto in questo fondo complementare perché molti hanno detto che nel PNRR nazionale non c'era l'indicazione dell'alta velocità per la nostra regione in realtà l'indicazione è prevista nei contenitori generali come per le altre regioni ed è proprio nel fondo complementare quindi il completamento dell'opera ci sarà attingendo a questi fondi e poi anche la regione come sempre farà la sua parte ci sarebbe da parlare ancora per ore sul piano ma ci fermiamo qui l'assessore Zilli sicuramente manterrà l'impegno e noi monitoreremo veramente passo dopo passo l'evoluzione di questo piano per cercare di non perdere nessuna delle puntate in una partita così strategica pochissimi istanti di pubblicità perché poi parliamo dell'altro tema caldo finanziario di questa giornata che è la cessione da parte della regione del medio credito Finanza e futuro dedicata interamente ai temi della finanza con proiezione nel futuro questa puntata di Economai FWG abbiamo parlato dell'evoluzione del piano nazionale di resistenza e resilienza e rilancio parliamo ora dell'altro tema caldo di questi giorni nella nostra regione la decisione della giunta regionale di dismettere la propria partecipazione nel medio credito del Friuli Venezia Giulia la giunta attraverso l'assessore Zilli ha presentato un emendamento alla legge Omnibus emendamento approvato a maggioranza dal Consiglio regionale per essere autorizzata ad avviare la procedura di dismissione Zilli perché dismettete una partecipazione del 47% in un istituto che ha avuto una storia così importante per le economie e le imprese della nostra regione? è arrivata una manifestazione di interesse da parte del socio di maggioranza che è il gruppo ICREA il terzo gruppo bancario italiano socio di maggioranza che è divenuto tale nel 2017 per effetto di una scelta che fece la loro amministrazione regionale di cedere il controllo della banca che era completamente regionale cercando un partner industriale bancario fu individuato appunto nel partner ICREA quel percorso doveva portare dei risultati produttivi per l'istituto di credito la regione scese al 47% e quindi perse anche diciamo in modo molto chiaro le scelte strategiche sull'istituto stesso la domanda che noi ci siamo posti fin da quando ci siamo insediati come giunta regionale è stata se ha senso oggi mantenere una partecipazione all'interno di una banca una partecipazione pubblica della regione con risorse dei cittadini di questa regione all'interno di una banca con uno scenario che è evidentemente cambiato rispetto alle scelte che portarono alla creazione di quell'istituto di credito e tenuto conto anche di tutti gli sforzi che con le risorse dei cittadini di questa regione negli anni sono stati fatti per tenere un equilibrio e tenere in equilibrio l'istituto stesso è arrivata questa manifestazione di interesse da parte del socio di maggioranza che noi abbiamo immediatamente valutato per cui abbiamo chiesto al consiglio regionale di approvare l'emendamento che ci autorizza la dismissione ma noi ovviamente essendo soci pubblici e facendo parte del mondo pubblico abbiamo tutta una serie di adempimenti che io farò con grande cautela e approfondimento per valutare il valore della nostra quota per comprendere se quindi sarà possibile trovare un punto d'incontro con il socio ICREA per l'eventuale cessione tenuto conto che siamo molto attenti alle garanzie occupazionali ed anche al fatto che Medio Credito negli anni ha gestito i fondi agevolati per conto della regione quindi il FRIE, il Fondo Sviluppo, il Fondo Casa e che è stato un partner fondamentale per le imprese di questo territorio negli anni non le chiedo essendoci una manifestazione di interesse una gara di evidenza pubblica una procedura a evidenza pubblica non le chiedo di quali cifre stiamo parlando no perché è prematuro non mi risponderebbe evidente però le chiedo se avete un'idea dei tempi nei quali realizzare quest'operazione di dismissione Diciamo che noi adesso la legge viene approvata entro domani dal Consiglio regionale benché l'articolo sia stato approvato necessità che sia approvata tutta la legge dopodiché faremo degli adempimenti di carattere tecnico per cui verrà individuato un esperto un soggetto terzo ed imparziale che farà la valutazione della nostra quota e poi in base a queste risultanze vi sarà il confronto con il socio di maggioranza che ha appunto formalizzato questa manifestazione di interesse poi ci sarà una gara pubblica qualora decidessimo di procedere con questa iniziativa ci sarà una gara pubblica dove appunto dovremo dare evidenza della volontà della regione di mettere in vendita le proprie quote e credo che questa operazione se si concluderà si concluderà entro l'anno cioè ma immagino dicembre di quest'anno e questo comporterà dover correre però noi siamo molto preoccupati per le sorti del personale e quindi stiamo ragionando su alcune scelte assieme anche all'interlocuzione che ci sarà con Icrea e confidiamo che ci siano delle risposte positive il tema vero è quanto è strategico nel 2021 che la regione tenga una partecipazione così qualificata senza possibilità di decidere in un istituto di credito ma con questa dismissione la regione non rinuncia a uno strumento importante di sostegno alle imprese e all'economia? no quello strumento era interno a medio credito perché medio credito era interamente pubblica regionale nel momento in cui dovesse perfezionarsi questa ipotesi di accordo e quindi l'accessione della nostra quota noi metteremo in campo un soggetto in house quindi interno alla regione che seguirà per noi questo è un ragionamento che stiamo facendo da tempo anche con il collega Bini o il collega Bini e il presidente Fedriga stiamo lavorando ad un in house che possa gestire i fondi regionali i canali contributivi regionali in modo da essere immediatamente a servizio dei cittadini e questa è un'occasione secondo noi importante in un momento storico come quello che viviamo perché il PNRR come abbiamo detto prima porterà ingenti risorse sui territori e quelle risorse dovranno essere gestite per poter realizzare i cantieri e la regione si candida ad essere quello strumento efficiente con un suo soggetto che può in qualche modo avere tutti i benefici dell'in house che non sto a dettagliare ma sostanzialmente deve essere un braccio operativo della regione per gestire tutte le risorse che arriveranno oltre ai canali contributivi che sono oggetto di studio in questo momento Assessore c'era qualche alternativa alla dismissione della vostra partecipazione? Ma guardi io non credo io francamente non credo perché come ho detto inizialmente lo scenario bancario è cambiato la nostra partecipazione pubblica è un unico ma a livello nazionale e io credo che le risorse dei cittadini derivanti dalle tasse dei cittadini possono essere utilizzate per altre finalità non ci fosse stata la manifestazione di interesse forse avremmo fatto altre scelte lei mi chiede non credo saremmo arrivati comunque verso il tentativo di una dismissione della partecipazione mi sembra di capire per fare sintesi che il vero obiettivo è avere una società che possa gestire in maniera diretta con la supervisione diretta della regione strumenti finanziari così importanti in questo momento sì nell'interesse collettivo cerchiamo di costruire qualcosa di utile ecco c'è una frase che lei ha pronunciato in consiglio che è stata al centro delle polemiche di queste ore lei ha detto il medio credito non sta in piedi è stata attaccata perché questa frase può inficiare il prezzo di vendita allora guardi in consiglio regionale dovremmo tutti mantenere un atteggiamento più serio quando affrontiamo certe tematiche e quando ho sentito qualcuno dire che con questo emendamento che la giunta regionale ma soprattutto i miei uffici che sono composti da persone di assoluto rango tratta medio credito come una proloco dell'ultimo paese del Friuli francamente detto poi da chi nella passata legislatura aveva già venduto la maggioranza della banca mi sono alterata e quindi poi i giornali fanno i titoli e questo è evidente io ho detto che in un momento storico come quello che viviamo banca medio credito e la partecipazione pubblica all'interno non stanno in piedi perché? perché è una banca che comunque non fa raccolta diretta non ha sportelli ed è schiacciata un po' dalla situazione che vivono tutti gli istituti di credito che sono stati portati a fare fusioni piuttosto che modifiche importanti da quanti anni? ma soprattutto è il fatto che un partner pubblico stia in un sistema che è dettato da logiche squisitamente privatistiche quindi è questo il vero tema poi vede i titoli appunto lei mi insegna un giornalista li fanno i giornali su medio credito ci sono stati sempre nella storia attacchi e contrattacchi io sono rimasta francamente basita rispetto al Partito Democratico che non ha partecipato al voto non sono stati eletti per non partecipare al voto i consiglieri del PD mentre il Movimento 5 Stelle ha votato favorevolmente all'emendamento e quindi nella totale apertura che io ho sempre garantito a tutti spiegando le cose non mi sarei aspettata strumentalizzazioni facili come quelle che sono state fatte sulla stampa flash finali da quanti anni il medio credito non chiude un bilancio in attivo se vuole un range più di 5 se è così malmessa la banca perché Icrea dovrebbe comprarla no non dico che sia malmessa tant'è che abbiamo approvato il bilancio in assemblea proprio ieri l'altro e la perdita c'è è evidente però ci sono dei buoni trend di investimento probabilmente avere un partner pubblico non è così facile come avere un partner privato o essere l'unico partner di un istituto di credito nel mondo bancario di oggi questa è la risposta grazie assessore Zilli grazie per essere stata così coerente nel mantenere l'impegno sul piano nazionale di resilienza e ripartenza e andiamo avanti dopo pochissimi istanti di pubblicità per vedere un primato che è stato segnato in questi giorni nella nostra regione con la banca di Cividale la Civibank Il Friuli Venezia Giulia ha segnato in questi giorni un primato e qui che si trova la prima banca italiana a decidere autonomamente di evolvere in una società per azioni e in una società benefit si tratta di Civibank la banca di Cividale del Friuli e cerchiamo di capire il senso di questa scelta di questa operazione con la presidente della banca la dottoressa Michela Del Piero buonasera presidente grazie per aver accolto il nostro invito e con il direttore generale il neo direttore generale Mario Crosta grazie per essere qui con noi allora presidente Del Piero perché la trasformazione in società per azioni e in società benefit cosa significa società benefit allora è un progetto che a dir la verità avevamo da un po' di tempo poi stoppato per la pandemia e poi anche questo periodo pandemico e tutto quello che è successo in questo periodo ci ha fatto pensare che potesse essere la strada giusta e quindi abbiamo ripreso il percorso la trasformazione Nespa è sicuramente un modo per rendere più attrattiva la banca nel mercato dei capitali evidentemente però abbiamo voluto fare questa operazione contemporaneamente modificando lo statuto sociale e quindi inserendo il concetto e lo scopo di società benefit siamo la prima banca tradizionale ad affrontare questo percorso perché l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto perché diciamo leggendo anche un po' la storia quello che è successo io sono sempre convinta che per capire quello che succede o succederà bisogna leggere che cosa è successo e vedere un po' il passato e quindi studiando un po' quelle che sono state le radici della nostra banca un po' di tutto il mondo e delle popolari sono nate per rispondere a un'esigenza della comunità della comunità di appartenenza nel nostro caso della comunità civilese perché da lì all'inizio è nata la banca quindi il concetto è di riproporre in chiave moderna questo stesso paradigma ossia lo scopo è sempre uno scopo del profitto perché siamo una SPA evidentemente ma un profitto inteso non solo come un profitto per gli shareholders cioè per gli azionisti ma per tutti gli stakeholders per tutti diciamo i rappresentanti i soggetti che in qualche maniera vivono nel nostro territorio sono impattati dalla presenza della banca per cui la comunità nel suo complesso io appunto ho letto e voglio portare avanti questo percorso di leggere la Benefit come una trasformazione una modernizzazione del concetto di banca popolare quindi le due parole chiave mi sembra possano essere profitto e comunità possiamo aggiungere anche la terza sostenibilità che non è solo sostenibilità economico-finanziaria sostenibilità vuol dire tante cose vuol dire sostenibilità ambientale anche che oggi è diventato un tema ancora più sentito dopo la pandemia si pensava che non lo fosse che si sentissero altre esigenze come primarie e invece abbiamo capito che proprio questo anzi è considerato ma non solo dalle nuove generazioni un tema assolutamente importante ma anche sostenibilità sociale di tutta la comunità come pensate di perseguire questi obiettivi? continuando quello che abbiamo sempre fatto perché credo che determinate attenzioni alla comunità le abbiamo sempre dimostrate ma l'obiettivo è non solo mettere la benefit nello statuto ma anche fare un percorso che porterà alla certificazione e quindi alla denominazione di B Corp che vuol dire proprio un modo sostenibile di fare banca nel suo complesso per cui una maturazione che deve avvenire all'interno di tutta la banca di tutto il modo di pensare alla banca pensare a come erogare il credito e a come vivere la propria clientela Presidente abbiamo spiegato abbastanza bene anzi bene che cosa significa società benefit società per azioni ormai avete un aumento di capitale in fieri in corso da tempo il consiglio di amministrazione è stato già autorizzato da mesi ad un aumento di capitale da 65 milioni di euro la trasformazione in S.p.a sicuramente agevolerà questo percorso quali saranno le tappe di questo percorso da anni ormai possiamo dire perché era un anno e mezzo fa quasi due anni fa anzi che ci ha autorizzato l'assemblea ne parlavamo proprio in questo studio in questo studio e la trasformazione in S.p.a era una tappa di questo percorso una tappa fondamentale evidentemente perché come ho detto in premessa insomma è ovvio che una S.p.a diventa più attrattiva per il mercato dei capitali è un passaggio come abbiamo detto noi c'eravamo credo correttamente fermati l'anno scorso perché volevamo capire che tipo di impatti avrebbe avuto insomma sul nostro territorio e abbiamo capito che comunque il sistema industriale della nostra regione ha retto ha retto bene fino ad oggi e quindi abbiamo ritenuto insomma che fosse assolutamente il momento di continuare questo percorso anche perché come dicevo prima questo anno che insomma ha visto tutto il sistema delle banche essere particolarmente attivo nell'affrontare la tematica il sostegno ai cittadini e alle imprese ha creato ancora di più un rapporto molto intimo e un legame ha rafforzato ancora di più il legame con la clientela per cui ci siamo sentiti assolutamente di proseguire in questa fase trasformazione il 12 aprile e aumento di capitale entro l'estate sostanzialmente quindi a valle della trasformazione nel mese di 3 giugno luglio concluderemo l'operazione di aumento chi lo sottoscriverà? noi chiederemo in primo luogo ai soci fuori i nomi intanto i nostri soci io auspico che siano i nostri soci in primis a credere in questo progetto non ne possiamo fare lo sa benissimo però insomma se non saranno i nostri soci o per la parte in cui i nostri soci riterranno di non volersi più di tanto esprimere io l'auspicio è che siano comunque sempre dei soggetti che come noi al territorio ci tenga ecco infatti i nomi sicuramente non li potrà fare la mia domanda era molto provocatoria la risposta scontata però sicuramente c'è l'interessamento di istituti bancari finanziari per quanto ne so anche di una fondazione non voglio i nomi però un profilo soprattutto da un punto di vista secondo me è importante sono soggetti che tipo di rapporto hanno questi soggetti con il territorio nel quale operano o nel quale opereranno ma come dicevo io allora intanto la diversità è sempre un valore aggiunto per cui quello che mi piacerebbe è che ci fossero diversi tipi di soggetti quindi dalle istituzioni immagino appunto che possano essere dei partner nostri istituzionali evidentemente possono essere anche degli altri istituti bancari fondazioni come lei ha citato anche pubblica attraverso strumenti finanziari pubblici anche anche come dicevo diversità pubblico privato può anche assolutamente essere anche questo un tema e poi imprenditori imprenditori del territorio che però abbiano come obiettivo non quello di fare per l'amor di dio poi come abbiamo detto il profitto è sempre il profitto ma insomma l'obiettivo che non sia quello di fare un capital gain ma che sia quello di investire per il bene del nostro territorio e delle loro imprese o delle imprese a loro affini insomma per cui deve esserci comunque questo elemento comune poi per il resto più diversificati sono meglio è la S.P.A. la società per azioni allontanerà la Civibank dal territorio? Non credo proprio assolutamente anche perché ho visto insomma visto il numero delle adesioni l'assemblea ha deliberato questa scelta con un amplissimo quorum 94% vuol dire che il territorio ha capito Lei ha un progetto molto ambizioso di fare della Civibank una piattaforma finanziaria bancaria per un'area ampia del nord-est ha parlato esplicitamente di presenza non solo in Veneto ma anche in Trentino ed Emilia mi sembra in contraddizione però con quello che diceva un attimo fa del fortissimo radicamento sul territorio No, no non direi in contraddizione allora è un territorio molto bello il motore del paese questo nostro nord-est che è rimasto senza neanche una banca noi siamo l'unica banca indipendente allora io credo che un territorio così abbia assolutamente bisogno di un motore finanziario quindi c'è anche una prateria di imprese che hanno bisogno di banche con cui colloquiare quindi credo che sia un delitto non utilizzare quest'area che è sicuramente molto vicina a noi da tanti punti di vista dalla tipologia di imprese all'area morfologica e quant'altro per cui io sto immaginando un progetto per il nord-est Friuli Venezia Giulia è una da cui partiamo non ce lo dimentichiamo perché è il nostro luogo natale però credo che una dimensione oggi peraltro diciamo c'è una tale mole di regolamentazione che la dimensione minima di una banca è più grande rispetto a quello che poteva essere tempo fa le banche piccole fanno fatica sicuramente a poter andare avanti crescere e avere la funzione che devono avere per cui diciamo il mio obiettivo è che questa banca con queste sue caratteristiche quindi rimanendo tale da questo punto di vista ma abbia la forza per poter essere assolutamente un interlocutore qualificato di questa parte del nostro paese quanto vuole crescere Civi Benca un piano strategico estremamente ambizioso mi sembra un piano strategico ambizioso ma non eccessivamente perché diciamo che quello che ci siamo promessi e ripromessi per l'anno perché il piano strategico comprendeva già il 2020 abbiamo performato assolutamente in linea e il primo trimestre 2021 altrettanto quindi l'ambizione insomma è stata assolutamente poi premiata dai risultati Direttore il Presidente la Presidente prima parlava dell'attrattività della banca trasformata in S.p.A. Qual è lo stato di salute dei conti? Abbiamo visto il bilancio del 2020 con 6 milioni e 800 mila euro di utile netto l'obiettivo per il 2021 è superiore ai 12 milioni di utile netto quello sì è un obiettivo ambizioso a che punto siamo? Il trimestre come si è chiuso? Il trimestre si è chiuso con dati molto positivi sia per quanto riguarda la raccolta e questo è un dato molto importante perché l'aumento della raccolta significa che i clienti della banca i cittadini hanno massima fiducia nella banca stessa sono aumentati gli impieghi quindi i crediti concessi al territorio ecco ricordiamo che una banca come la nostra è una banca che vuole continuare a fare banche in modo tradizionale a proprio servizio delle famiglie e delle imprese del territorio e anche i dati di conto economico per quanto riguarda il primo trimestre sono assolutamente in linea per cui oggi possiamo dire che l'obiettivo tra gli 11 e 12 milioni di utile del 2021 è un obiettivo raggiungibile ha parlato di banca tradizionale ma qual è il modello di banca alla quale lei sta lavorando per CVBank si stiamo lavorando ad un modello di banca che metta assieme l'offerta per l'appunto di servizi tradizionali da erogare tramite le filiali ma sempre di più vogliamo che le filiali della banca diventino tanto per le famiglie che per le imprese diventino dei centri di consulenza con un'offerta di servizi altamente qualificata e nel frattempo peraltro stiamo lavorando anche su un progetto di digitalizzazione molto importante che permetterà di recuperare efficienza e il recupero di efficienza porterà sicuramente ad una fetta di quell'utile che lei poco fa richiamava e permetterà anche di fare tutta un'offerta molto importante come dicevo un attimo fa qualificata di prodotti e servizi ad esempio siamo partiti con una piattaforma attraverso la quale è possibile sottoscrivere una polizza di assicurazione dal telefonino dovunque uno si trovi ha parlato di una banca come punto di riferimento centro di riferimento ho usato questa espressione per famiglie e imprese veniamo fuori stiamo venendo fuori da una vicenda terribile come quella della pandemia in che modo Civibank è stata vicina a imprese e famiglie in un momento così difficile ci dà un po' di numeri sì sì ci piace citare proprio i numeri perché attraverso i numeri passano tante cose sono state fatte nel 2020 5500 operazioni di moratoria tanto a famiglie che a imprese e già in questi primi mesi sono state fatte grosso modo un migliaio di operazioni di moratoria moratoria chiaramente serve per dare respiro ai soggetti economici e alle famiglie in funzione delle difficoltà per affrontare le difficoltà che si sono presentate tempo per tempo nel frattempo però la banca non ha fatto solo questo tipo di lavoro perché ormai già da diversi mesi è fortemente a sostegno degli investimenti perché bisogna evidentemente affrontare la crisi ma bisogna anche guardare avanti e proprio attraverso il sostegno degli investimenti la banca è diventata ormai da qualche mese la prima banca ad utilizzare i fondi agevolati della regione Friuli Venezia Giulia Presidente una banca vicina una banca di vicinanza a famiglie e imprese vogliamo spostare l'attenzione sui soci le faccio una domanda diretta quando al netto delle vicende delle normative covid tornerete a distribuire un dividendo ai vostri circa 16 mila soci molto presto molto presto il nostro piano pluriannale prevede che già dal prossimo anno potremo distribuire un dividendo quest'anno diciamo abbiamo avuto un ottimo risultato teoricamente sarebbe stato distribuibile al di là del fatto che in ogni caso siamo in una fase di aumento di capitale sociale per cui è evidente che siamo molto attenti alla patrimonializzazione ma comunque c'è diciamo il suggerimento molto forte da parte di Banca d'Italia in questa fase di pandemia di non distribuire ma di mantenere assolutamente tutte le risorse in banca per affrontare qualsiasi periodo e qualsiasi incognita insomma in cui ancora oggi non si conoscono bene tutti gli esiti per cui quest'anno comunque non si sarebbe potuto fare una scelta di questo tipo auspichiamo che il prossimo anno il risultato come ha detto il direttore è un risultato che è concretamente realizzabile e quindi insomma possiamo assolutamente partire ripartire con la buona abitudine che aveva sempre la banca di distribuire i dividendi ai soci negoziabilità delle azioni siete quotati in borsa ma praticamente i titoli non si vendono e non si comprano non dipende da voi ma cosa prevede per i prossimi mesi o le prossime settimane si riuscirà a sbloccare questa situazione? Sì ho un problema effettivamente che non tocca solo noi tocca tutto questo genere di mercato e io sono convinta ne abbiamo parlato anche più volte anche qui che la negoziabilità dei titoli dipenda dalla buona salute della banca ma non sia istantanea per cui è necessario che la banca dimostri determinati passaggi per un determinato periodo e poi la fiducia evidentemente della base della base sociale si dimostra anche nella trasferibilità dei titoli per cui credo che quest'anno si sia cominciato questo percorso di dimostrazione di una profittabilità di cui si era parlato fino ad oggi ma insomma che ha avuto la sua concretezza importante questo come primo anno per cui ritengo che questo effetto così come anche la trasformazione in SPA che sicuramente un minimo di liquidabilità al titolo lo dà questi due fattori diciamo uniti possano in qualche maniera creare un po' di movimento e quindi rendere un pochino più agevole il trasferimento dei titoli Direttore abbiamo parlato degli scenari dei prossimi mesi per Civi Bank avete un osservatorio privilegiettissimo sull'economia della regione e come spiegava prima la Presidente sul Nord-Est qual è lo scenario che riesce a disegnare dal suo osservatorio per l'economia regionale? Lo scenario è uno scenario che selezionerà molto i settori produttivi i settori operativi sicuramente i settori del piccolo commercio del turismo sono settori che sono stati fortemente penalizzati e che ancora stanno soffrendo notiamo che per quanto riguarda le aziende molte aziende o meglio c'è stato un calo generalizzato del fatturato praticamente da parte di tutte le aziende però nel contempo la redditività delle aziende non è calata così drasticamente cosa succederà? succederà con la ripresa che è prevista per i mercati che un po' alla volta i fatturati verranno sicuramente ripresi lì dove chiaramente si riesca a contenere l'effetto di questa situazione pandemica e noi crediamo che ci sarà questa pandemia servirà ad accelerare un processo di selezione degli operatori di mercato nel senso che chi già aveva dei problemi purtroppo avrà questi problemi acuiti chi invece ha affrontato questa situazione già avendo delle basi solide probabilmente ne uscirà e magari ne uscirà anche rafforzato perché potrà acquisire nuove quote di mercato faccio un esempio per capirsi anche per quanto riguarda il commercio per quanto riguarda il settore del turismo c'è una netta differenza tra chi aveva gli immobili di proprietà e non doveva pagare l'affitto e chi deve pagare l'affitto è chiaro che chi deve pagare l'affitto sicuramente parte con un peso maggiore fin dall'inizio però bisogna anche essere fiduciosi e tutto il lavoro che stiamo facendo è proprio per dare sostegno a tutti gli operatori economici perché quanto prima ci sia un effettivo rilancio rispetto a questa situazione Presidente in questo scenario che ha delineato il direttore Crosta c'è un paradosso che porta ad una domanda che io faccio sempre a tutti i conti correnti bancari anche quelli della nostra regione esplodono di liquidità dall'altro lato tantissime aziende lo ha ricordato un attimo fa anche il direttore sono in gravissima crisi di liquidità cosa c'è che non funziona una parola la mancanza di fiducia questo è quello che manca e questo è quello che bisogna far ripartire in questo paese è l'unico input che possiamo dare per fare in modo che ci sia questo travaso tra questa liquidità che oggi è lì diciamo che anche lì perché c'è anche questa incognita del futuro per cui mi immagino che al di là della mancanza di fiducia c'è anche un tema intanto di diminuzione dei consumi per cui le persone in qualche maniera hanno lasciato lì la liquidità perché sono diminuiti i consumi ma anche perché temono rispetto a quello che succederà nel futuro per cui è un po' un ansiolitico il fatto di mettere via un po' di risparmio per risolvere per pensare così di risolvere un po' il problema del futuro quando questo futuro sarà più chiaro speriamo che questo accada il prima possibile ma insomma deve passare prima per una soluzione del problema sanitario io ritengo poi sarà possibile far ripartire e mettere in circolo questa liquidità ci avviamo alla conclusione una domanda secca presidente del Piero nel 2021 qual è l'obiettivo più importante che vorrebbe raggiungere alla guida di Civibank intanto devo concludere questa operazione per cui portare a termine questo famoso aumento di capitale sociale insomma poi abbiamo tantissimi progetti ma questi saranno per una prossima puntata da fare con questo nuovo aumento di capitale e siamo pronti per ricrescere quindi per il resto ci vediamo la prossima volta allora con l'appuntamento alla prossima intervista ringraziamo la presidente di Civibank Michela Del Piero ringraziamo il direttore di Civibank Mario Crosta e arrivederci al prossimo incontro questa trasmissione è stata offerta da Infostar tecnologie digitali per le imprese